ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato al tisso tisso pr 516 che sarebbe poi pr sta per particolarmente robusto lo dico in italiano perché in francese dovrei fare la manina trombetta e dire la pronuncia e ve la lascio a voi andate a cercare come si pronuncia in francese particolarmente robusto poi me lo venite a scrivere qua sotto perché io non lo so e dopo faccio la figuretta pr 516 una linea di orologi appunto di tisso che prende la luce negli anni 70 veramente agli albori dell'orologeria agli albori 70 e da sempre contraddistingue una serie di orologi che sono da tutti i giorni diciamo così particolarmente robusto la dice lunga su quale sia lo scopo di questa famiglia di orologi versione cronografo che è uscita recentemente e questa è la riedizione del solo tempo con data orologio che attendevo con impazienza di avere per le mani perché a vederlo così dalle fotografie dai rendering sui siti web mi piaceva molto no e ha avuto le caratteristiche per essere l'orologio piacione che può piacere a tutti che piace alla gente che piace io questa volta l'ho preso ho azzardato l'ho preso col quadrante blu e col cinturino in pelle ho voluto esagerare solitamente li prendo neri col bracciale che preferisco bracciale c'è poco da dire ma in questo caso ho voluto fare la buttata e quindi cinturino in pelle e quadrante blu va detto che esce in quattro versioni al momento vedrete che poi in futuro ce ne saranno una marea di altre versioni ma in questo momento ce ne sono quattro una che mi sembra c'è gli accenti in pvd color oro quindi la scartiamo subito perlomeno per il mio gusto e poi c'è il quadrante nero col bracciale in acciaio il quadrante nero col cinturino in pelle e il quadrante blu solo con il cinturino in pelle che è assurda la cosa perché le casse sono uguali basterebbe prendere il bracciale in acciaio di quello nero e metterlo su quello blu e hai fatto anche l'altra versione no? cosa gli costava mettere a disposizione degli amici che vogliono comprare un orologio? non si sa, uscirà, lo faranno su richiesta magari il buon Giacomo ve lo fa ecco perché l'orologio l'ho preso dall'amico Giacomo cioè che è il titolare della gioielleria Pasquale Domenici di Viareggio che è partner ufficiale del canale mi mette a disposizione appunto gli orologi è concessionaria del marchio e vi offre un trattamento di favore che in questo caso essendo già un entry level della Tissù questo il prezzo è già basso figuriamoci poi se vi tratta un pochino come si deve quanto ve lo può fare questo orologio qua fate un po' voi ora direi di... ah no, prima di dare lo sguardo all'orologio come si suol dire vi faccio vedere quello del giorno che è il mio bellissimo Breitling Cronomat GMT 40 mm di diametro cassa quadrante blu, bello acceso questo quasi soleil, anzi è soleil la sua bella ghiera con i cavalieri il calibro ETA 2893 che è robetta cioè... è di fornitura, non è un calibro in house però questo orologio qua col bracciale in questo caso posso dire ROLU perché proprio lo so pronunciare questo la francese e ci piace tanto è un bello orologio che ogni volta che lo indosso dico ma perché ora me lo devo togliere e dare spazio agli altri e invece poi poi quando metto su un altro dico ma ma perché mi devo togliere questo insomma si cozza vogliono tutti salire sul polso e mi piacciono tutti guardiamo giriamo la camera diamo lo sguardo al Tissù PR516 e poi ci ritroviamo qui come al solito per le considerazioni finali apriamo le danze andando ad elencare i freddi numeri relativi alle misurazioni effettuate diametro cassa 37.5 mm spessore 11.4 ingombro trasversale al polso 45 mm e ansa da 20 mm misure davvero spirito vintage senza compromessi al polso risulta infatti essere alquanto compatto e contenuto restituendoci quel sapore retro propriamente identificativo dei modelli da cui deriva devo dire che nonostante io abbia una circonferenza da 19 cm riesco ad apprezzarlo anche sul mio polso e vi assicuro che non è sempre così spesso gli orologi con lunetta graduata mi appaiono troppo piccoli in questo caso invece lo trovo proporzionato fa specie l'altezza del profilo appena al di sopra degli 11 mm e probabilmente viene ottenuta riducendo lo spessore delle pareti in acciaio ciò comporta come conseguenza una resistenza alla pressione limitata a 10 atmosfere pari a 100 metri di profondità statica più che sufficienti per l'utilizzo in quasi tutti i contesti a livello di design ci troviamo di fronte alla tipica cassa anni 70 che si muove sinuosamente panciuta sui fianchi per poi terminare squadrata laddove il corpo si congiunge al cinturino un recesso quadrangolare che favorisce l'esposizione delle superfici superiori a tal punto che le finiture superficiali appaiono evidenti come non mai una fine e precisa spazzolatura longitudinale presente sia sul dorso che lungo il lato caror a separarle come nella miglior tradizione troviamo delle smussature lucide che tendono a diventare più evidenti man mano che ci si approccia al termine delle anse sono invece quasi impercettibili nei pressi della corona che ricordiamolo è semplicemente a pressione sono sì quasi impercettibili ma ben a sbalzo in quanto la lunetta misura solo 36 mm ed essendo più contenuta del corpo cassa lascia spazio alla finitura perimetrale occorre dire che si tratta di una lunetta fissa come nei suoi predecessori e non è quindi finalizzata al calcolo dei tempi vuole semplicemente riportare la scala minuti anche sulla porzione esterna dell'orologio qui troviamo alcuni dettagli che ritengo apprezzabili si presenta come un anello tridimensionale il cui lato verticale è pigmentato di nero questo la eleva dalla base sottostante sia per esposizione dimensionale che per contrasto cromatico ritengo questa particolarità alquanto apprezzabile a mio gusto ovviamente in questa struttura di contenimento viene poi integrato un inserto in acciaio che riporta la scala minuti graduata e sul quale è presente una protezione trasparente in vetro minerale l'effetto finale è quello di una lunetta sagomata in rilievo che conferisce una forte connotazione all'aspetto generale dell'orologio aspetto che viene poi arricchito paradossalmente dalla semplicità disarmante del quadrante la finitura del blu è opaca e piatta non vi è alcun riflesso di luce emanato né alcun gioco cromatico contrastante queste particolarità determinano una eccellente leggibilità del quadrante stesso grazie anche al vetro zaffero che è completamente piatto e sul quale è presente uno strato di antiriflesso indici applicati in rilievo corti e compatti sfere rettangolari mutuate dagli indici stessi e scritte semplicemente stampate e poco invadenti insomma un quadrante che non mira il preziosismo ma che piuttosto cerca di rendersi ben leggibile da qualsiasi angolazione l'unica nota di colore come nel passato è data dalla sfera secondi rosso fuoco ben visibile e piacevolmente in linea con il blu del zaya stesso risulta ovvio che gli accenti che vediamo in bianco siano ricoperti di superluminova ed infatti in assenza di luce mette in mostra una leggibilità pienamente sufficiente per un orologio sportivo impermeabile da utilizzare nella quotidianità non ho ancora parlato del calibro e per farlo occorre dare uno sguardo anche al lato B qui troviamo il classico fondello trasparente con calibro a vista una feature quasi scontata nel tisso di fascia bassa mette in mostra il powermatic 80 ogni presente derivazione dell'eta 28-24 negli orologi della casa svizzera questa è la versione entry level ossia quella con 23 rubini in luogo dei 25 classici laddove i due rubini mancanti sono quelli dello scappamento che infatti è qui realizzato in materiale sintetico autolubrificante 21.600 alternanze ora riserva di carica di 80 ore e spirale del bilanciere Nivacron ovviamente a regolazione inerziale un calibro base per lo meno per l'industria alvetica che però almeno delle statistiche degli utilizzatori dà ottimi risultati di precisione ed accuratezza non rimane che parlare del cintolino presente sulla versione da me scelta in pelle blu scuro perfettamente adatto lo stile 70s dell'orologio presenta dei forellini traspiranti che lo identificano come un racing adatto alla guida sportiva diciamo lo trovo particolarmente adatto allo spirito dell'orologio anche se io lo acquisterei sicuramente con il bracciale in acciaio per montare un cintolino c'è sempre tempo dopo anche considerando il fatto che sono presenti le spring bars a sgancio rapido che facilitano l'operazione di smontaggio possiamo tornare presa diretta per le considerazioni finali eccoci qua io ripartirei dall'inizio dall'apertura del video nel quale mi lamentavo del fatto che la versione blu non esce con il bracciale in acciaio stranamente che però si può mettere si prende il bracciale del nero si mette su questo e siamo a posto perché dico questo più che altro perché il cintolino è morbido però quando lo indosso mi sta un pochino sollevato dal polso la testa questo perché probabilmente va utilizzato io non è che posso mettermi lì a stropicciarlo a morbidirlo e a stringerlo forte sotto il polso per fargli prendere la forma non posso permettermi non è mio l'orologio è nuovo e quindi quella volta che l'ho provato mi stava un pochino sollevato dal polso se tornassi indietro io per fare la recensione prenderei quello col bracciale perché è inutile col bracciale mi piacciono di più secondo me rende meglio anche l'orologio però in questo caso il cinturino è fatto bene ecco è il classico racing con i forellini traforato direi come ho preso il vostro Comandinsky ultimamente il cinturino rosso che mi sono lamentato che aveva tutti i bucchetti storti alcuni erano chiusi ecco già qua vediamo la differenza tra quel cinturino che costava 15 euro e questo qua che è fatto bene che è esattamente curato nella lavorazione cuciture perfette fori perfetti tutto allineato d'altronde e l'interno è scamosciato quindi sarebbe anche comodo spring bars di sgancio rapido cioè il cinturino c'è è inutile io preferisco quelli col bracciale in acciaio perché poi il cinturino mi ce lo metto io lo scelgo io me lo faccio fare anche artigianale no? va bene detto questo poi altri punti un pochino diciamo in ombra possiamo dire il la ghiera cioè la ghiera la lunetta perché la lunetta questa è fissa è che ha come copertura come protezione il vetro minerale che si graffia ora la lunetta essendo stretta anche se ci fosse qualche graffio superficiale non si vede non è che è come il trasparente che sta sopra il quadrante che è più a rischio poi serve anche per la leggibilità in questo caso qualche graffietto non si vede perché l'hanno messo minerale non lo so possiamo inventarci le solite balle perché il minerale resiste di più agli urti per questo perché quell'altro in realtà perché è più economico già il prezzo dell'orologio sta sul basso magari hanno voluto risparmiare sul vetro minerale sulla ghiera sulla lunetta perché magari farlo piccolino così occorre farlo bello spesso perché sia resistente no a parità di spessore è più resistente uno minerale a spezzarsi e quindi essendo sottile magari facevano prima a farlo in vetro minerale che costava meno detto questo altri punti deboli non ce n'è se ci vogliamo mettere il calibro che è la versione 23 rubini del powermatic niente di che la versione base quella con lo scappamento in plastica quella che utilizza il PRX e tanti altri orologi di Tissot che stanno sotto i mille più siamo verso il basso verso la fascia di entrata del marchio e più si utilizza il calibro più economico non è quello a 25 rubini non è certificato cost è quello base però visto il prezzo di 600 e pochi sopra euro cosa ci prendi con 600 e pochi euro tanti orologi per l'amor del cielo ma un Tissot a quella cifra lì non è poca roba vabbè il fondello trasparente ormai siamo abituati non lo menziono nemmeno come punto debole perché sarebbe un po' voler esagerare voler infierire per il resto l'orologio cavoli ragazzi è proprio bello è proprio bello come me lo aspettavo io ripeto avrei dovuto portarlo con il bracciale perché secondo me rende di più la cassa secondo me rende di più però anche così col cinturino è bello ora sto parlando solamente della cassa è fatta bene è rifinita bene la lunetta fissa così molto molto tridimensionale con il lato nero perfetto va a riprendere pari pari lo stile del PR 516 degli anni 70 di lì non si scappa è una riedizione però è una riedizione con tutti i crismi cioè nel senso che anche io ho avuto il PR 516 vintage e non è che puoi permetterti di indossarlo al mare sto qua lo puoi indossare anche al mare pur non essendo un diver 100 metri di impermeabilità ce l'ha la corona pressione va bene ci passiamo sopra ma se dice che sono 100 metri sono 100 metri il bagno al mare ce lo puoi fare come e quando vuoi anche il tuffetto dal pattino non da 100 metri bello l'orologio bello il quadrante blu è bello e io quasi quasi vi esorterei a prendere la versione blu col bracciale quella nera col bracciale è un classico ma se si potesse o attendere un attimo oppure se si potesse fare lo scambio prendere la versione blu col bracciale che è particolare è particolare per me l'orologio è promosso ragazzi quei pochi punti deboli che aveva ve li ho detti che poi se ci pensiamo bene con il fatto che costa così poco tra virgolette siamo sempre i soliti discorsi poco perché è poco tutto è relativo però secondo me costa poco e il calibro base la lunetta in vetro minerale ci si può passare sopra poi ognuno di voi deve decidere qual è il punto nel quale non si può andare oltre per cui si può comprare un orologio nonostante i punti deboli o meno dovete scegliere voi io vi faccio le fotografie le riprese vi dico come è fatto ve lo leggo poi voi decidete alla fine che la testolina ce l'avete e sapete quello che vi piace e quello che non vi piace detto questo io vi ringrazio per essere arrivati fino a qua vi devo abbandonare per andare a vedere su instagram le cose che sapete e vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love